Tutti vogliono e devono fare qualcosa in questa profumata e tormentata primavera, un periodo dell'anno in cui weekend o festività sono dedicati a comunioni, gite fuori porta, grigliate in compagnia piuttosto che sagra l'aperto. Giornata in cui speriamo sempre affidandoci al meteo regni il sole accompagnato da temperature elevate in modo da passare una gita piacevole. Sembrava dunque che la primavera fosse arrivata ma negli ultimi giorni le temperature sono precipitate e la colonnina di mercurio è ritornata a segnare minime di 5 gradi nelle prime ore del mattino. Per quanto riguarda la giornata odierna la nostra città sarà interessata ad abbondanti piogge a partire dal tardo pomeriggio che continueranno fino a tutta la giornata di venerdì. Il termometro segnerà una temperatura di 15 gradi ma quella percepita sarà minore a causa del forte scirocco che soffierà fino a 70 km orari. Giornate che ricordano l'autunno ma che nel giro di due giorni lasceranno spazio al bel tempo a partire da sabato che proseguirà fino a domenica.